Salve amici di TuttoMotori e bentrovati da Marco Guidotti e dall'Arena Star, vendita e assistenza Opel a Modena. Siamo qui oggi, dopo la tanto attesa ripartenza, per potervi illustrare di nuovo le nostre auto nuove, le nostre auto usate e i nostri servizi. Siamo finalmente aperti, con tutte le precauzioni del caso, però se qualcuno di voi preferisse ancora avere un collegamento a distanza, siamo attrezzati per farlo, quindi potete chiamarci, potete videochiamarci, possiamo sentirci per e-mail o sul web attraverso il nostro sito www.renostar.it Seguitemi all'interno del salone per vedere alcune delle nostre auto che vi stanno aspettando. Grandi promozioni in questo periodo per la grande stradista di casa Opel. La Opel Insignia, sia nella versione berlina che nella versione station wagon. Ci sono sconti che possono arrivare al 35% per tutti, non solo per le aziende, anche per i privati, e soluzioni di noleggio a lungo termine estremamente interessanti e convenienti. Per chi l'auto la vive davvero, oltre che l'insegna, si può pensare anche alla Opel Astra. Anche qui abbiamo delle condizioni estremamente interessanti, con sconti che possono arrivare al 30% sulle auto disponibili. Vettura semplice, compatta, ma allo stesso tempo raffinata e completa di tutto. Per chi, come dicevamo, sull'autostrada ci vive. Favolose promozioni anche per il SUV di casa Opel, la Crossland e la Grandand. Grandand che adesso abbiamo anche in versione Hybrid 4WD, in cui abbiamo visto la prova su strada recentemente. Corsa, la nostra piccola grande utilitaria, vi aspetta nelle sue varie forme, compreso quella elettrica, che finalmente è arrivata. A breve vi faremo anche la prova su strada. Infine, i nostri veicoli commerciali. La gamma è completa, abbiamo dei mezzi a pronta consegna, da allestire o allestiti anche, per chi deve ricominciare a lavorare e a trasportare. I trasporti adesso sono fondamentali e noi abbiamo una gamma che può soddisfare qualsiasi esigenza di trasporti. Per chi vuole spendere qualche cosa in meno, abbiamo anche una vasta gamma di auto usate a chilometri zero, non solo di marca Opel, tra cui le auto ALD Select, cioè i rienti del noleggio a lungo termine ALD. Sono tutte auto fresche, con pochi chilometri, pochi anni, garantite due anni, con IVE esposte e con soluzioni finanziarie personalizzate. Sono molto interessanti, valide alternative al nuovo, per chi vuole un'auto sicura, affidabile, ma allo stesso tempo poco sfruttata. Bene amici di Tutto Motore, vi aspettiamo fisicamente o virtualmente come preferite alla Renostar, vendita e assistenza Opel a Modena, in via Raimondo dalla Costa 70 ai Torrazi, sul nostro sito www.renostar.it. Alla prossima! Grazie a tutti!